Ben ritrovati, ci siamo lasciati con Marco che appunto stava accennando uno dei problemi più importanti rispetto alle relazioni e ai problemi che può portare un social network dell'importanza di Facebook. La mancanza di controllo che ci può essere appunto da parte del genitore perché se una volta mia mamma mi chiedeva con chi stavo uscendo la sera, con chi ero stato al mattino, quali erano le mie conoscenze, mio padre diceva di evitarne una piuttosto che un'altra, adesso ho bisogno che questa cosa qua, anche se sembra assurdo, venga fatta su Facebook. E come però? Come? Con un controllo serio da parte del genitore. Bene, allora per esempio Melania che ha due bambini, come pensi di poter attuare un eventuale controllo, senza ovviamente far sentire la pressione del genitore che sta controllando, perché poi bisogna stare anche attenti a come si fa il controllo? Sì, io lo ritengo sia un argomento molto molto pericoloso per i bambini, soprattutto perché iniziano non 15, 20 anni, 25, in cui cominciano già a avere anche un pochino meglio il senso delle cose. Vedo che ci sono molti bambini, che iniziano anche i compagni dei miei figli, a 8, 9 anni, a 10, sono già su Facebook, falsando la loro identità naturalmente, perché se no non riuscirebbero a registrarsi. Perché, scusate, faccio una domanda, c'è un limite di età per registrarsi su Facebook? Ah, dovrebbe essere a 16 anni. 16? Ma non lo sapevo questo. Poi, voglio dire, chi è che controlla? Cioè, a fondo, vabbè. Io sto cercando di fare un'attività di prevenzione con i miei figli, li sto spiegando, innanzitutto informando io. Tu hai Facebook, Melania? Sì, ho Facebook, lo seguo in maniera abbastanza superficiale, perché mi serve più che altro per svagarmi quei 10 minuti ogni tanto e per mantenere un pochettino i contatti con vecchie conoscenze, compagni di scuola. Mi piace sapere che cosa fanno adesso persone con cui ho condiviso momenti importanti della mia vita in passato. Sono una persona un po' nostalgica, ecco, quindi lo faccio più che altro per questo. Per quanto riguarda i miei figli, invece, ho già dovuto, nonostante il grande abbia solo 10 anni, ho già dovuto affrontare questo discorso insegnandogli quali sono i pro e i contro. E lui ha capito che effettivamente non ha tutto questo bisogno di andare su Facebook. ha capito che non è pronto, perché non è in grado di capire, non è in grado di distinguere il bene dal male. Quindi io sono in grado di capire quello che devo acquisire da tutto ciò che arriva. E gli ho spiegato, gli ho fatto vedere con degli esempi. Quindi insieme a me, come si fa a capire? E lui ha capito di non avere gli strumenti, ha visto che è un po' troppo complesso per la sua età. E quindi lui spontaneamente ha detto che ci pensa quando sarà più grande, ecco. Però ho dedicato molto tempo a questa attività e non è stato semplice. Non è che una volta ci siamo messi lì a parlare e tac, ha capito subito. E che tu, Melania, sei una mamma giovane anche. Invece adesso capita che i genitori siano sempre più grandi rispetto ai figli. E quindi facciano proprio parte di generazioni diverse. E' ovvio che parlo a un cinquantenne che ha un figlio di dieci anni o otto anni. E' ovvio che quarant'anni fa o trent'anni fa, quando lui aveva la stessa età del figlio, determinate cose non c'erano. Quindi c'è proprio una diversità di propriocezione. Non ti fai questo tipo di problema, è l'attenzione che manca. Sì, anche questo. Io ho notato anche che ci sono alcuni genitori, che sono anche più anziani di me naturalmente, che dicono adesso faccio cercare questa cosa da mio figlio, magari dodicenne, tredici, quattordici, perché io non sono capace. Secondo me non esiste proprio questa cosa. Bisogna mettersi lì e imparare e capire quello che fa il figlio. I miei genitori, quando ero ragazza, mi venivano a controllare dove andavo. Io uscivano con la macchina e venivano a vedere con chi uscivo, dove andavo. La stessa cosa adesso dovrebbero farla i genitori su Facebook. Anche se non sono capaci, si devono mettere di impegno e provare a verificare. Anche perché si crea un meccanismo centripeto. I genitori adesso sono dei teenager, quindi magari hanno, che ne so, capita sempre più spesso che abbiano un matrimonio fallito, una storia che non è andata bene, figli e quindi loro recuperino un'adolescenza o comunque si riattivino verso l'età adolescenziale e i figli, che invece avrebbero bisogno comunque di una guida, si ritrovano a dover fare da controllori a loro stessi. Quindi autocontrollarsi e non sembrano gli strumenti. Vergognarsi un po', comunque mettersi all'ombra di genitori che stanno assumendo atteggiamenti non proprio canonici. E questo crea una sovrapposizione di piani che porta a un sacco di confusione. Quindi la reazione è giovani, giovanissimi che si sentono o comunque chiedono di essere sempre più grandi, sempre più adulti e inversamente genitori sempre più giovani dentro e fuori. E questo credo che sia uno dei problemi più dilaganti. Quindi molto spesso quello che non hai nella vita normale te lo vai a cercare altrove e crei altre problematiche. Davis, che ne dici? Allora, Facebook ce l'ho anch'io, però prometto che secondo me è inutile o quasi. Forse perché io sono abituato che da ragazzino non c'era ancora Facebook, quindi c'era un punto di incontro tra amici, si si vedeva di persona, non c'era bisogno di computer, niente. Però io ho pochissime amicizie e tutte quelle amicizie che ho, tutta la gente che comunque conosco di persona. E questa è secondo me la prima cosa per proteggersi? Ti puoi fidare bene o male di tutti quelli che hai, e ho molte richieste amicizie di gente che non conosco e non accetto neanche, proprio per limitare questi problemi. Certo, anche perché poi siamo i primi, abbiamo 400.000 amici, ah che figo, c'è un sacco di amici, poi appena ti chiedono come stai, dicono ma questo che vuole, ma chi lo conosce, ma chi se ne frega. Allora, ma che senso ha averlo lì tra le amicizie? Cioè effettivamente non ha un senso, è molto infantile come atteggiamento quello di avere. Io mi ricordo una delle prime puntate che chiedevo a una ragazzina, ma tu quanti amici hai? Ecco, parliamo di ragazzini che ovviamente frequentano delle scuole qua, in queste zone, quindi parliamo di Milano. Ah no, io ho pochi, 2000. Cioè quindi hanno amici di quello della... Quindi fa, fa gruppo, fa moda e uno si trova veramente inglobato in situazioni un po' paradossali. Poi dico il pericolo che c'è dietro l'accettare un'amicizia che in realtà non conosci personalmente. Certo. Basta pochissimo creare un profilo falso e dargli accesso alle tue informazioni, accettando tra gli amici. Assolutamente, assolutamente. Ma anche il fatto di chiacchierare ripetute volte con, ne avevo già parlato Emilio, ti ricordi, questo confidarsi tutto in tre giorni. Stai 72 ore su Facebook come Whatsapp, ecco, come altre forme di comunicazione, poi finalmente decidi di incontrarsi e ti trovi davanti a una persona affettivamente sconosciuta, che comunque non corrisponde alla tua aspettativa e questo crea un altro gap che ti porta a rifugiarti ancora di più in quello che è il mondo ideale invece di Facebook piuttosto che di un altro sito. Assolutamente, infatti questo aspetto porta a quello che viene sottovalutato, cioè una distorsione della realtà. Per cui capita che nel momento dell'incontro reale, quando ci si arriva, sperando che ci si arriva, ci sia una discrepanza assoluta tra quello che hai costruito mentalmente anche nella chat e quello che poi ti ritrovi davanti. E questo anche crea problemi di natura psicologica notevoli, nel senso che anche a me in studio capita spesso di vedere delle persone che costruiscono delle relazioni online che mai si sviluppano nella realtà, che diventano vere e proprie dipendenze. è una delle tecniche, diciamo, delle cose a cui si portano queste persone a trasformare quindi l'incontro virtuale, se nasce in sede virtuale, al più presto trasferirlo nella realtà, in maniera tale proprio di fare una sorta di bagno di realtà, come si suol dire, di doccia, che ti ritrasporta a quelle che sono le cose effettive. Quindi per rompere anche quella sorta di sogno che si è creato nella testa e confrontarsi con le reali difficoltà che ci sono. Certo. Io volevo fare una domanda mettendo un po' insieme le informazioni dette da voi. Dario ha parlato di persone, coppie, con evidenti problemi forse anche nella vita normale, che però pubblicano l'idillo amoroso su Facebook. Marco ha detto che è probabilmente una ricerca di conferme. Questo mi piace a una foto piuttosto che a uno status. Questa ricerca, che cosa, secondo voi, che cosa vuol dire? Cioè, una coppia in crisi che mette tiamo tiamo la mattina e la sera invece uno status con palese crisi esistenziale di rapporto. Che cosa cerca dalle persone? Cioè, io non riesco a capire proprio il meccanismo che ci porta a autoaffrancarci con delle cose che non sono tangibili. Cioè, che meccanismo scatta? Dario, se tu vedi una foto di smancerie, tutti questi baci, queste cose, foto di profilo con... perché? Vabbè, intanto sono contrario. Quindi, perché, come ti dicevo prima, per me Facebook è un canale più pubblicitario. Quindi c'è quella frase di buongiorno a tutti, mi auguro una buona pace. Il rapporto di insicurezza che si ha, il volere dimostrare agli altri. Intanto non interessa a nessuno quello che fai tu con tua moglie o con tuo marito, no? Quindi devi dimostrare alla persona stessa, perché spesso succede che in queste coppie c'è anche una forte insicurezza. Quindi non c'è fiducia, non c'è stima. E poi lo vedono i risultati. A me è capitato di conoscere persone, ma questo te lo dico, che sembravano la coppia più bella del mondo, da invidiare. Ma guarda quelli, questa visibilità, questo film finto, che ti dico, alla fine questi qua si sono trovati l'uno e l'altro, un compagno o una compagna. Quindi voglio dire, loro, così, hanno mentito. Volevano far sapere a tutti che erano innamorati, alla fine non lo erano assolutamente. Sì, ma anche questa cosa di hai un litigino da niente, crisi, oddio, mi struggo, mi distruggo, single. Dopo cinque minuti, la, 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 ha cambiato la propria situazione sentimentale, da relazione aperta. Ma scusate, a parte che la regola della vita è che i panni sporchi ti rilevi a casa, intanto. Cioè, se vuoi, a, non avere i gufi altrui, perché la gente ti schernisce, cioè ti deride, intanto pensa che cavolo me ne frega a me. Ma poi, io sono la prima a dire, ma perché anziché star lì a cambiare dieci minuti della tua situazione sentimentale, non alzi il telefono e ti fa una chiacchierata con chi devi? Perché pare veramente che tutti abbiamo, come diceva Marco, bisogno del supporto e più gente ti supporta con mi piace, con commenti, eccetera, e più ti senti di andare per la tua strada in maniera retta e in maniera giusta. Ma dove? Cioè, quanto, davvero, ci stiamo, guarda ragazzi che è una situazione veramente un po', se uno ci va a pensare un attimo più a fondo è veramente particolare. A me capita di vedere anche tra alcuni amici che ho, che devo decidere se toglierli, far vedere che si sono andate a fare fine settimana, il weekend al mare, e mostrare con il tuo compagno le foto dentro, non so, messe in posizione. Voglio dire, questo è una forma di esibizionismo, ma è un fatto che la persona, quando la persona la conosci, e purtroppo ce l'hai tra i tuoi amici, ma che la conosci concretamente anche fuori, ti rendi conto che la persona è un esibizionista, cioè, e quindi vuole farsi sapere a tutti quello che fa. Infatti ragazzi, Facebook è un Facebook, l'abbiamo preso come emblema, ma è davvero, Emilio, correggimi se sbaglio, veramente pericoloso, perché in realtà chiunque appare meno di quello che vorrebbe sembrare tramite uno schermo. Quindi rischiamo veramente di fare dei preconcetti su persone che magari sono splendide per altri motivi, ma che sono molto più normali di quanto in realtà non vogliamo pensarle. Quindi questo davvero credo che sia il problema fondamentale. Ma se voi trovaste il vostro compagno, la vostra fidanzata o moglie, eccetera, ad avere delle amicizie particolari su Facebook, come potreste reagire? Chi parla? Cioè, si riesce in questo momento a capire che è Facebook e non è la vita reale? No, guarda, secondo me si reagisce malissimo in qualsiasi caso, perché darebbe fastidio. In fin dei conti, se c'hai un amoroso, una moglie, eccetera, e ha preso su delle amicizie particolari, a te ti dà fastidio perché gli ha dato importanza, non avrebbe dovuto dargli importanza. E quindi questo è un altro di quei problemi che, come dicevi, alla fine creano problemi anche tra le coppie. E certo, perché quando non capisci più quanto sia reale e quanto no, perché è vero, un social network è fatto di persone reali, c'è dietro, scrive qualcuno, ecco. Quindi questo è chiaro. Quindi questo intersecarsi di piani va un po' a convenienza. Quando ti conviene dici, ah no, ma tanto è solo Facebook. In realtà la vita normale è un'altra, la vita reale è un'altra. Quando invece vuoi andare a parlare dall'altra parte, eh no, però c'è qualcuno dietro, tu hai l'intenzione di. Quindi c'è un sacco di problemi. Io mi ricordo mia mamma che mi diceva, primi anni di Facebook, mi diceva, io ero fidanzata, e mi diceva, vedi che, dall'alto della sua saggezza, mi diceva, vedi che secondo me alcune cose non gli faranno poi così piacere a. Ed effettivamente poi l'ho scoperto dopo quando mi sono ritrovata dall'altra parte. Quindi io il consiglio che do sempre è quando si è in coppia, a meno che non ci sia una forte empatia, una grande, insomma, consapevolezza dell'uso, dell'utilizzo di questo strumento, di o di non farselo proprio, oppure di non accettarsi l'amicizia, perché si creano fraintendimenti assurdi. Ecco, ma a proposito di non farselo proprio, io ero curioso di sapere come si vive senza Facebook, senza il social network. Bravo, Emilio. Dato che tu non ce l'hai, quindi abbiamo un esponente di quella categoria che comunque non è piccolissima. Però si è cancellato lui. Sì, non ce l'aveva. Eh, appunto. Guarda, allora, dunque, prima di tutto vi spiego che cosa vuol dire cancellarsi da Facebook. Non funziona che te prendi e ti cancelli, perché quello ti ritorna sull'email per 20 giorni, perché loro hanno ben capito che 20 giorni è il tempo per cui tu ti rinserisci. Ok. superati i 20 giorni con grande difficoltà, perché voglio dire... Sei tentato. Eh sì, sei tentato. Che ti senti fuori dal mondo. Sei tentato anche se ti ha creato dei problemi. Sei tentato. Anche perché ormai la prima cosa, scusa, le aproparete, la prima cosa che ti dicono è Facebook. Cioè, non più il numero di telefono, non più, oddio, dove posso ritrovarla. La gente si incontra una sera, fa due chiacchiere, sei caruccia, si gira e fa, senti, come si chiama quello? Un giorno dopo ti sta aggiungendo, cioè, non c'è proprio più la pregnanza dell'incontro. Eh sì, guarda, diventa veramente un problema a rapportarsi con le persone normali, perché, diciamo, tutti hanno Facebook, e come non hai Facebook, come faccio a contattarti? Esatto. Esattamente. Adesso il passaggio dopo è Whatsapp. Da Facebook passano, senti, ma anziché star qua nella chat di Facebook, hai Whatsapp, ma scusa, ma Whatsapp si basa sul numero di telefono, ma chiedimi il numero di telefono, cioè, cos'è sta cosa di Whatsapp che fa meno invasione? Ragazzi, chiedete il numero di telefono a Paola. Scrivete le missive, scrivetevi lettere con il franco bollo. Guarda, io ti dico la verità, senza Facebook si sta molto meglio, perché non stai a controllarlo continuamente, però ci ha anche le sue ripercussioni. Cioè, nel senso, per esempio, se capita il giorno del tuo compleanno, da 30, 40 persone che ti auguravano gli auguri, ne rimangono due o tre. Perché purtroppo... Beh, ma meglio poche ma buone, ma scusate, io a volte dico, caspita, sto Facebook mi ricorda che il compleanno di Tizio Caio Sempronio, cioè, più amici hai e più diventa lunghisa, allora passi una mezz'ora a fare gli auguri. Magari, se fosse decisamente sorto spontaneamente, ti saresti ricordato dalle 4 o 5 persone a cui normalmente avresti fatto gli auguri. Eh sì, esatto. Io gli auguri su Facebook, guarda, sì, grazie, ok, 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 ma neanche li guardo, perché se poi c'hai l'ambaradana che ti squilla, oh, è il compleanno di quello, ma scusami, che senso ha? Non ha un senso, quindi figurati. Emilia. Bene. Diciamo che ci sarebbe tantissimo altro di cui parlare, però mi sembra che sia emerso come questo strumento, diciamo, che il social network richieda sicuramente più attenzione dal punto di vista della conoscenza di tutti, cioè nel senso, prenderlo meno alla leggera, perché può essere uno strumento sicuramente utile, ma va conosciuto in profondità e va riconosciuto anche il livello dove va a lavorare, che è un livello pubblico, sociale, è come essere in piazza e non vanno confusi invece i livelli personali, intimi, che invece appartengono a un'altra sfera. Non deve diventare luogo di compensazione, ma quello che potrebbe essere un potenziamento della realtà, ma il punto di partenza deve essere sempre la realtà, quindi se non si è capaci nella realtà diventa sicuramente un luogo dove ci si va a nascondere e quindi come diceva anche Melania è importantissimo per i genitori soprattutto diventare esperti di quello strumento per quanto riguarda il parental control, per quanto riguarda la conoscenza, perché se si vuole discutere dei pro e dei contro, bisogna conoscerli per essere una buona guida per i ragazzi. Certo, anche perché in un'età così giovane il divieto diventa assolutamente deleterio. Esatto, diventa improponibile e quando non si può fare poi a monte ovviamente c'è anche il discorso che fino a quando non ci saranno delle leggi che andranno a tutelare ulteriormente queste cose bisogna autotutelarsi con la conoscenza e con l'abilità. Esatto, dubitiamo. Non partiamo proprio da questo presupposto qui anche se non dobbiamo aspettare certo eventi eclatanti come quelli dello spunto del film per dover egiferare a proposito di questo. Pensate anche un ragazzino che si trova poi deriso da tutti su Facebook quanto può essere grave. Certo. Ci sono bambini che entrano in depressione per le prese in giro in classe. Immaginiamoci in una dimensione enorme come può essere un sito web. Quindi bisogna veramente senza fare terrorismo perché come diceva Dario come dicevamo anche prima ci sono delle cose positive come diceva Sofia pubblicità insomma promozione di noi stessi del nostro lavoro però ecco cercare di lavarci i panni sporchi a casa e le nostre cose sono le nostre cose o per pochi intimi come faremmo nella vita normale perché siamo sempre vissuti senza Facebook quindi non diamo di troppo a importanza. Chiuderei guarda con un spunto di Alessandro che mi è piaciuto molto di cercare di non trasformare le emozioni in beat. Ottimo. detto questo noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata ringraziamo i nostri ospiti ringraziamo ovviamente il dottor Emilio Gerboni preziosissimo e se avete qualsiasi suggerimento mi raccomando programmi chiocciola di trattino alto tv.net ciao alla prossima da Paola e allora grazie a Paola grazie ad Emilio questa puntata di diffusion si chiude qui io vi ricordo che se volete partecipare al programma di Paola ed Emilio se volete fare parte del pubblico potete mandare un'email a programmi chiocciola di trattino alto tv.net io intanto vi do appuntamento a domani domani come ogni mercoledì scusate la puntata è quella dedicata allo stile assieme a Valentina domani ci parla di abiti da sposa e poi la nostra rubrica dedicata al wedding style ci insegna come realizzare bomboniere e partecipazioni con un tema davvero eccezionale quello del caffè sarà che io sono golosissima di caffè ma insomma la puntata di domani non me la perdo di sicuro nemmeno voi ciao